A Venezia, i 13 persone abbiamo fatto, tipo, quando ho sentito tirato il carrello di scassate, e dai, io, povera il culo a mia moglie, dai, io voglio poi ci voglio. A Venezia, i 14 persone hanno fatto, tipo, quando ho sentito tirato il carrello di scassate, a Venezia, i 14 persone hanno fatto, tipo, quando ho sentito tirato il carrello di scassate, a Venezia, i 14 persone hanno fatto, tipo, quando ho sentito tirato il carrello di scassate, a Venezia, i 14 persone hanno fatto, tipo, quando ho sentito tirato il carrello di scassate, a Venezia, i 14 persone hanno fatto, tipo, quando ho sentito tirato il carrello di scassate, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti